Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 la settimana. Partiamo con le notizie dal lunedì. Maxi Frode scoperta dalla Guardia di Finanza in un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni, tra cui anche l'Abruzzo. 440 milioni l'importo complessivo dei fondi illecitamente percepiti attraverso la creazione e la commercializzazione di falsi crediti d'imposta. 78 le persone indagate, 8 sono le persone finite in carcere e altre 4 ai domiciliari. Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della pandemia è finito invece in modo illecito. Nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. E la Maxi Frode scoperta dalla Guardia di Finanza in un'indagine partita da Rimini e poi estesa a diverse regioni, tra cui l'Abruzzo. Complessivamente sono 78 le persone indagate e 35 le misure cautelari emesse dal GIP, 8 le persone finite in carcere e 4 ai domiciliari, mentre nei confronti di 20 imprenditori è stata disposta l'interdizione all'esercizio d'impresa e per 3 commercialisti l'interdizione all'esercizio della professione. Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, facevano parte di un'associazione con base a Rimini, ma con ramificazioni in tutta Italia, responsabili di aver creato e commercializzato per un importo di 440 milioni i falsi crediti d'imposta, lo strumento introdotto tra le misure previste del Governo con il decreto rilancio del 2020 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. L'esecuzione delle misure è scattata, oltre che in Emilia-Romagna, anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. I finanziari di Rimini, assieme agli altri reparti territoriali, allo Scico e al nucleo speciale Frodi Tecnologi, che hanno eseguito anche un'ottantina di perquisizioni e sequestrati i falsi crediti d'imposta a beni e società per il reato di indebita percezione e di erogazione ai danni dello Stato. Tra gli indagati, nove avevano anche presentato domanda di reddito di cittadinanza, mentre altri tre avevano precedenti per associazione di stampo mafioso. Dal 1 febbraio previsti nuovi voli e orari più comodi per i passeggeri che sceglieranno l'aeroporto d'Abruzzo. Dopo le difficoltà invernali dettate dalla pandemia, c'è molta fiducia in vista dell'estate. Vediamo. L'aeroporto d'Abruzzo sempre più verso un ritorno alla normalità. Da domani, 1 febbraio, saranno ripristinati quattro collegamenti Ryanair, potenziando Bergamo-Orio al serio e reinserendo altre tre destinazioni. Per Torino si torna a volare tre volte a settimana. La destinazione di Lontra Stansted verrà operata due volte a settimana. Per Bruxelles, Charleroi, quattro voli a settimana. Infine, la tratta Pescara-Milano-Bergamo torna a 12 voli settimanali. Analizzando ciò che è avvenuto l'anno scorso, quest'anno è un importante segnale, perché l'anno scorso questi voli sono stati ripristinati nella mensilità di aprile. Quest'anno invece partiamo già dai primi di febbraio. A marzo verrà già in vendita il collegamento sempre operato da Ryanair per Francoforte-Anne e diciamo che aprile dovremmo avere ripristinato tutto l'intero collegamento e planning che Abruzzo Airport ha già dal 2021. Novità riguardano anche i collegamenti con Linate effettuati da Aita. Il volo da Pescara verso Milano partirà alle 6.30 anziché alle 6.10. Quello della sera da Linate verso l'Abruzzo partirà alle 20.30 atterrando a Pescara alle 21.40 e non più alle 23.55. Restano invariati i collegamenti pomeridiani, in partenza da Linate verso Pescara alle 15.15 e dall'Abruzzo verso la Lombardia alle 17.10. Se il buongiorno si vede al mattino c'è un cambio di passo anche ai vertici di Aita. Noi non possiamo dimenticare che attraverso lo switch Alitalia-Aita abbiamo beneficiato di un collegamento in più tutt'ora in essere, quindi Linate è collegata due volte al giorno. Abbiamo un dialogo costante e quotidiano con questo vettore. Stiamo siglando un accordo per quanto riguarda il proseguimento di questi due collegamenti e probabilmente se rimarranno questi due collegamenti riusciremo attraverso Linate Scalo Hub collegare altre destinazioni anche con la città di Pescara. Dopo queste importanti novità lo sguardo si sposta verso l'immediato futuro, cioè l'estate. Noi ci apprestiamo la Summer 2022 con la massima espansione dei voli da e per l'Abruzzo con il maggior numero di frequenze e se la pandemia ce lo consentirà naturalmente potremo migliorare ed aumentare i numeri già importanti del 2021. L'aumento del costo delle materie prime e in ricari in bolleta stanno mettendo di nuovo in ginocchio il comparto commerciale. Dopo le difficoltà del lockdown una nuova mazzata attende chi finora con tanti sacrifici aveva resistito alle difficoltà. Vediamo. Il semplice caffè della mattina inizia a diventare difficoltoso perché comunque l'aumento delle bollette porterà a un aumento anche del consumo al bar. Beh sicuramente. Noi dopo tanto tempo siamo stati costretti ad aumentare leggermente il prezzo del caffè perché effettivamente ci ha aumentato tutto. A cominciare proprio dall'energia elettrica che da un importo di 400-500 euro al mese siamo arrivati a 8-850 euro al mese. Non solo il semplice caffè al bar ma anche forni, ristoranti e parrucchieri si trovano ad affrontare nelle ultime settimane la problematica dei rincari a partire da quella dell'energia elettrica con stime di aumento del 50-70%. Per non parlare della quarta ondata che con i suoi numeri elevati sta costringendo migliaia di persone a casa con la conseguente riduzione di richiesta. Si lavora diciamo al 60% di come si lavorava prima e questo ti va a ridurre ancora di più i tuoi guadagni se mai ci fossero. Queste difficoltà si vanno poi a riflettere anche sul tessuto sociale con tante aziende costrette a rincorrere la cassa integrazione o addirittura al licenziamento di dipendenti. Dopo saldi che ha fatturato zero, una condizione nella ristorazione dove c'è stato un lockdown da dicembre ad oggi che ha determinato un zero incassi, insomma diciamo che in questo momento forse la condizione è ancora più critica di un anno fa. Sicuramente la ristorazione e panifici piuttosto che la distribuzione organizzata, cioè quindi supermercati, hanno un'incidenza importante su questo problema. Proprio ieri abbiamo fatto una presidenza di Confesercenti dove abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di consorziarci anche con altre associazioni di categoria per l'acquisto di energia elettrica. Quali sono le vostre richieste? Ridurre il bolletto o almeno farci pagare quello che pagavamo prima. Non ci serve che ci danno i soldi, almeno ci danno la possibilità di guadagnare un minimo sul lavoro che facciamo. Sono state varate le nuove regole sulla gestione del virus nelle classi. Misure che però non trova d'accordo la Cigie Lechieti che parla di ulteriori distinzioni all'interno delle classi. Vediamo. La cabina di regia riunita ieri a Palazzo Chigi ha annunciato la modifica delle regole per quarantene didattiche a distanza. Da lunedì cambiamenti in tutti gli ordini di scuola. Per l'infanzia è prevista la sospensione della presenza per tutti al quinto caso di positività e la didattica a distanza può essere disposta solo per 5 giorni e non più per 10. Per la primaria la DAD sarà prevista solo per i non vaccinati e a partire dal quinto caso di positività in poi, mentre al primo caso di positività scatta solo l'obbligo di autosorveglianza. Nella secondaria si passerà alla didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati. Le nuove regole prevedono che dal secondo caso in poi i vaccinati con terza dose i guariti restino in classe, mentre per i non vaccinati si sospenda la didattica in presenza per 5 giorni. Così come è avvenuto a gennaio, l'insieme delle misure che si stanno varando sono finalizzate a dichiarare una normalità inesistente e non adeguata ai dati di contagio che vive ogni giorno la scuola. Siamo preoccupati, dicono dalla CGL Chieti, abbassare le difese per dire che va tutto bene non risolve i problemi, mentre da settimane si contano quasi 400 morti al giorno. Queste misure di semplificazione rappresentano per il governo un tentativo di normalizzare forzatamente le condizioni di vita nelle scuole, garantendo la didattica in presenza a qualunque costo, anche a rischio e pericolo, degli alunni più piccoli che stanno in classe senza mascherine. Per noi semplificare non vuol dire diminuire le tutele, ma rendere omogenee le regole per tutti gli studenti della classe, indicando misure chiare per tutti, non farraginosi i conteggi. Grida vendetta la differenziazione fra alunni vaccinati e non vaccinati. Fare scuola chiude il sindacato, non significa stare in didattica mista. Occorrono strumenti adeguati per evitare un impoverimento dell'offerta formativa da garantire alle studentesse e agli studenti. Una deliberazione della Corte dei Conti punta il dito contro la gestione di cassa del Comune di Pescara. Caos in Consiglio Comunale proprio mentre si discute il bilancio. Vediamo. In questo Comune abbiamo un direttore generale che evidentemente non è andato a fare il suo dovere oppure non ha le competenze per farlo, un assessore che non è andato, un sindaco che non è andato, un dirigente che non è andato a parlare con la Corte dei Conti. Siamo abbandonati dietro a non si sa quale eventuale tecnocrazia, si preoccupano di dare istruzioni ai dirigenti e nel frattempo il Comune sta praticamente andando a zampe per aria. Il rallentamento delle attività a causa Covid avrebbe dovuto incidere positivamente sulla gestione di cassa che invece resta una delle criticità più acute nella gestione del Comune di Pescara e quanto messo nero su bianco dalla Corte dei Conti in una deliberazione che ha creato scompiglio nel Consiglio Comunale del Capoluogo Adriatico. Il predistesto finanziario è stato dichiarato nel 2014. Il Movimento 5 Stelle parla di situazione disastrosa. Ci sono debiti fuori bilancio elevatissimi, ci sono anticipazioni, cioè rispetto al fatto che non abbiamo dei soldi in cassa abbiamo utilizzato soldi che non avevamo su cui paghiamo degli interessi altissimi. Il problema è chi controlla, perché sono state fatte quelle spese, perché non sono state evitate e quindi i soldi che come delle formichine siamo riusciti a mettere da parte non sono stati accantonati per non pagarci degli interessi sopra. Il problema quindi è la completa ma la gestione delle casse comunali. Si tratta di una strumentalizzazione politica, si difende l'assessore al bilancio Seccia. Strumentalizzazione di carattere politico da parte di qualche collega della minoranza che pone delle ombre sull'attività, questa non la accendiamo, la rimandiamo al mettente in maniera decisa. Io ricordo solamente una cosa, che in questi anni c'è stata un'anticipazione di cassa quasi costante, al 31-12-2021 l'anticipazione di cassa è venuta meno perché abbiamo in cassa 6 milioni e 4, la cassa è il termometro dello stato di salute dell'ente e se tanto abita tanto il Comune di Pescara sta migliorando tantissimo questa situazione e quindi quel rilievo fatto sui interessi passivi ovviamente è già superato, la correzione di questa criticità è già stata superata. Così come ad esempio il pagamento di 2,9 giorni dei fornitori del Comune di Pescara è un altro indicatore di efficienza del Comune. Tra i problemi evidenziati dalla Corte dei Conti, quello della riscossione dei tributi. Non è vero che il Comune non batte cassa, rispondono dall'amministrazione. C'è una società partecipata creata ad hoc per la riscossione delle tasse. Il problema di riscossione dei tributi è un problema endemico del sistema Italia. Il Comune di Pescara nel 2019 ha deliberato la costituzione di una società in house che si chiama Adriatica Risorse, che ha la mission di riscossione e al 31 dicembre c'è stato un incremento del 5% delle entrate. Ora il Comune ha un mese di tempo per rispondere alla Corte dei Conti. Seconda missione istituzionale a Dubai per la delegazione abruzzese. Dal 7 a 11 febbraio la nostra regione metterà in mostra tutte le eccellenze dell'agri-food. Obiettivo? Favorire l'apertura sui nuovi mercati. Vediamo. Dall'olio alla pasta, senza tralasciare il pane, il vino e lo zafferano. Così l'Abruzzo si presenta da lunedì 7 febbraio all'Expo di Dubai, nella settimana dedicata all'agri-food. Saranno 25 le aziende partecipanti per un totale di circa 120 prodotti. In vetrina, Abruzzo sostenibile a Dubai per una serie di appuntamenti per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e favorire l'apertura su nuovi mercati. La novità vera è quello che dicevamo prima, cioè l'opportunità di mettere a disposizione delle aziende strumenti innovativi di processi di internazionalizzazione. Ci sono delle aziende, dei prodotti che hanno già ormai un brand internazionale. Noi dobbiamo far crescere tutto il modello, tutto il sistema abruzzese. Questa è la vera sfida. E per questo mettiamo a disposizione questi strumenti, grazie anche alle attività del nostro braccio operativo che sarà Arap, che servono proprio per far questo. L'Agenzia regionale per le attività produttive braccio operativo della regione punta con questo Expo a far cambiare l'approccio per dare alle aziende risposte, soprattutto dal punto di vista economico. Di non fare una comparsa istituzionale, ma di rendere questa missione efficace per l'obiettivo che ci si era prefissi di portare l'Abruzzo nel mondo, i prodotti abruzzesi nel mondo, cercando di rafforzare i canali di vendita e i canali commerciali attraverso l'utilizzo del mezzo dell'Expo universale. Il padiglione Abruzzo sarà presso l'hotel Hilton. Qui avverranno incontri B2B, B2C, ma saranno presenti anche social media e influencer fondamentali per la rete. Loro si aspettano comunque di far conoscere sempre di più i loro prodotti in un contesto di far conoscere sempre di più i prodotti abruzzesi. Questo è il nostro risultato. Poi conteremo la bontà di questa missione attraverso quanti contatti ci sono stati, che tipi di ragionamenti si faranno e che prospettive ci saranno. La riserva danunziana di Pescara, dopo il grosso incendio del primo agosto scorso, tornerà per due comparti nuovamente a disposizione dei pescaresi. Lo ha annunciato l'administrazione comunale che ha espropriato due aree insistenti sempre nell'area verde della zona sud. Vediamo. Il comune di Pescara ha avviato due procedure di esproprio di due importanti aree ricadenti all'interno della riserva danunziana. Si tratta dell'ex galoppatoio e della zona dove una volta sorgeva il casello ferroviario. Le novità sono state illustrate dall'amministrazione comunale che ha rivendicato questa mattina in conferenza stampa l'importanza dell'azione politica. Abbiamo avviato due procedure di esproprio, una che riguarda l'ex galoppatoio, quell'area dentro la riserva naturale, dentro il PAN, espropriamo 13.000 metri quadrati, quindi restituiamo alla città un'area verde che era di un privato, che è di un privato, si è sempre parlato di acquisire al patrimonio pubblico quell'area, nessuno l'ha mai fatto, noi avviamo la procedura di esproprio convintamente perché pensiamo che tutta l'area, per ora ne espropriamo 13.000 metri quadrati, che tutta quell'area di 50.000 metri quadrati debba tornare velocemente al patrimonio pubblico. e poi espropriamo anche l'ex casello ferroviario che si trova sempre dentro la Pineta, nella zona di via della Bonifica, dove un privato che ha acquisito il casello vorrebbe costruire una villa, siccome si trova dentro la Pineta, siccome si trova dentro al PAN e anche quella è un'area che deve essere a servizio della Pineta, anche lì abbiamo avviato la procedura di esproprio. E intanto, come ha spiegato l'assessore Gianni Santilli, proseguono a buon ritmo i lavori per arrivare a breve alla riapertura dei comparti 3 e 4 della Pineta. Sono in atto già dei lavori al comparto 3 e 4, che pensiamo di riaprire entro la fine del mese e poi inizieremo i lavori al comparto 5, sul suggerimento degli esperti, quindi faremo delle pulizie particolari al comparto 5. Invece, quello che mi preme dire è la riapertura dei comparti 3 e 4, in modo da dare la possibilità alla cittadinanza, ai bambini, di tornare a correre all'interno del parco. Possibile che la riapertura totale di tutta l'area avverrà prima dell'estate? Stiamo lavorando su questo, sicuramente. Il totale sarà un po' difficile, in quanto ci sono stati d'incendio, ha distrutto una grande parte della Pineta del comparto 4, però stiamo vedendo come mettere in sicurezza per dare la possibilità di sfruttare al massimo lo spazio all'interno del parco. Adesso cambiamo argomento, parliamo di sport. Altro match casalingo per il Pescara, che dopo il deludente pari con la Cararese, cerca i tre punti contro il Gubbio. Tornano a disposizione Cancelloti e Drudi. Non ci sarà Memushai per un problema alla Caviglia. Out anche Derisio. Il tecnico Auteri stigmatizza la prestazione con la Cararese e si aspetta una squadra più affamata. Vediamo. Riprendere subito confidenza con i tre punti, soprattutto avere un altro atteggiamento e cancellare la poca determinazione vista con la Cararese. Questi i propositi del Pescara per il match di domani all'Adriatico contro il Gubbio, direzione di gara a Cumara di Verona. Il pari interno di mercoledì non è andato giù ad Auteri, il quale ne ha parlato con la squadra. Ecco che cosa non è andato. Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Da che punto di vista? L'ho già detto prima. Dal punto di vista della cattiveria agonistica, dal punto di vista della voglia di vincere e di sacrificarsi e di giocare a calcio e di condurre in porto un risultato che sarebbe stato importante. Quindi è tutto resettato. Le scelte le farò domani all'ultimo momento in funzione di quello che parlerò, con tanti chiaramente, perché comunque siamo alla terza partita in sette giorni, ma quello che conta, ma questo vale anche per gli altri, ma quello che conta è l'aspetto mentale. Deve andare in campo un pescara affamato e non sazio. Sul fronte formazione va verso il ritorno tra i titolari Mirko Drudi, che ha smaltito il trauma cranico riportato col Montevarchi, Outme Ushai per un problema alla caviglia e Derisio alle prese col Covid. Ballottaggio tra Diambo e il neo arrivo Pontisso per un posto in mediana al fianco dell'intoccabile Pompetti. Zappella e Rasi favoriti sulle due corsie. In avanti Clemenza, due gol all'andata, spera di avere una chance al posto di uno tra Rauti e Dursi. Così Auteri presenta gli avversari. Il Gubbio è una squadra molto fisica, soprattutto quello, giocatori strutturati, è una squadra di grande impatto fisico. Noi dovremmo essere bravi a rispondere da questo punto di vista, quindi dal punto di vista agonistico, e fare prevalere i nostri criteri e le nostre caratteristiche migliori. Nel Gubbio fuori causa l'infortunato cittadino e lo scolificato di Noia. In difesa si vedrà Tazzer, prelevato al posto di Ucadda. In mediana spazio all'ex Boulevardi, davanti occhio ad Arena, scatenato all'andata, mentre Spalluto potrebbe giocare al posto di Sarau. Dobbiamo dare continuità a queste prestazioni, giocare con personalità, con coraggio, andare a pescare e giocarci. Ho un grande rispetto, ma senza nessuna paura degli avversari, anche perché io poi penso che tutti si possono battere, anche se il valore della squadra, del Pescara, è un valore importante. Dopo tre trasferte consecutive, il Teramo ritrova lo stadio di casa. Confronto delicato contro la Lucchese, che viene dopo due sconfitte consecutive. Guidi carica i suoi per risalire la classifica. Vediamo. È chiaro che le prestazioni devono aiutare a arrivare a quello. È quello l'unico obiettivo. A maggior ragione, quando iniziano a mancare le partite, dobbiamo a tutti i costi arrivare al nostro obiettivo. Quindi i miglioramenti che avevo detto a post-gara erano orientati a quello, perché la prestazione brutta, che non mi era piaciuta, a Imola, che ci aveva portato a un risultato negativo, abbiamo giocato meglio a Siena, ma non è bastato. È chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più, e lo possiamo fare se continuiamo a giocare sul campo nella maniera giusta, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con la nostra qualità, cercando di fare ancora qualcosa in più per raggiungere l'obiettivo, che è quello di fare dei punti. Io spero che tutti i tifosi e tutto lo stadio aiuti e solleciti la squadra per il bene del Teramo, come tantissimi tifosi della curva hanno sempre fatto e incitato, come quelli che ci incitano dal primo al novantesimo in ogni trasferta. Spero che tutto lo stadio ci stia vicino, poi è chiaro che a fine partita il giudizio di ogni persona è giusto che venga espresso nel bene e nel male. La Lucchese è una squadra allenata da un allenatore, da uno staff che stimo molto, perché è chiaro che hanno un'identità chiara sul campo, è una squadra estremamente solida, una squadra che gioca con grande intensità, che sul campo ha conoscenze e quando hai conoscenze, chiaro vuol dire che il lavoro settimanale è fatto molto bene. È una squadra che nell'ultima, mi sembra, 14 o 15 partite ha perso due volte sole, su 14 partite mi sembra che 10 volte non hanno subito gol, e quindi è una partita complicata, difficile. Ma la squadra era già arrabbiata, a fine partita hanno parlato dentro lo spogliatoio con forza, con la consapevolezza che se giochiamo così ne perdiamo poche. È chiaro che poi, quando giochiamo così, non dobbiamo commettere delle sbavature per pigrizia, come abbiamo commesso, cioè dobbiamo avere una visione che quando la palla non hanno gli altri dobbiamo essere bravi a fiutare il pericolo, cosa che non abbiamo fatto nel primo gol. Ora, le partite scarseggiano, come ho detto in precedenza, ogni partita va interpretata come se fosse una finale e all'interno di una finale ogni pallone può essere quello decisivo, nel bene e nel male. Questa deve essere l'interpretazione che ci accompagna sempre, ma è quello che chiede in ogni singola esercitazione ai ragazzi. Però io dal punto di vista mentale vedo la squadra consapevole. Quando c'è consapevolezza, poi penso che la partita la possiamo fare, interpretare, al di là di quello che sarà il risultato che dobbiamo cercare con tutte le nostre forze. Questa era l'ultima notizia per l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.